Pistoiese in caduta libera, mentre il fanalino di coda Livorno vince e si guadagna tre punti che potrebbero far comodo per una non retrocessione diretta, quella che rischia seriamente ora invece la compagine arancione. Un 5-0 che resterà un triste e doloroso ricordo nelle pagine della storia della Pistoiese che proprio nell'anno importante del centenario disputa una stagione negativa. Un Livorno ormai morto e sepolto poche settimane fa sembra rinato, se non altro Iamaranto in campo mettono orgoglio e volontà, cosa che facciamo fatica a trovare fra le file arancioni. E parole ne ha poche anche la società che va in silenzio stampa, non parlano i dirigenti nella squadra. Cosa dire, parlano i fatti e purtroppo i risultati, sesta sconfitta consecutiva, la ventesima della stagione. La prestazione della squadra di mister Sottili è stata deludente sotto ogni punto di vista, in campo solo Iamaranto, partiti bene fin dai primi minuti del primo tempo, primi 45 minuti che terminano sul 2-0. Pistoiese non pervenuta, nessuna reazione, Valiani e compagni vagano in mezzo al campo, ma di fatto il gioco è tenuto in mano dai pedroni di casa. Nel secondo tempo stessa storia, Labronici subito in rete con il terzo gol, tentativi deboli degli ospiti, mai di fatto pericolosi, fino a quando il Livorno cala il poker e la sfida salvezza è finita, nonostante arrivi anche il 5-0. E forse per togliere altri colpi duri alla Pistoiese il direttore di gara, il signor Marcenaro di Genova, non concede nemmeno il recupero. Restano solo 5 partite alla fine della regular season, 3 al Marcello Melani, 2 in trasferta. Ma se diamo uno sguardo alle squadre che lottano per la salvezza insieme alla Pistoiese, vediamo che la Lucchese ha pareggiato in casa con il Piacenza, l'Olbi ha vinto a Renate, la Gianarminio ha pareggiato in trasferta a Grosseto. E mettono così in cascina punti, cosa che non riescono ormai da mesi a fare gli arancioni.